A Padova la Digos ha avviato delle indagini per far luce su numerose scritte apparse in città. Si tratta di messaggi lasciati con la vernice rossa. Numerosi punti della città imbrattati, episodi inquietanti che si aggiungono a quelli dei giorni scorsi, anche se bisognerà comprendere se hanno la stessa origine. Gli imbrattamenti e le scritte sono comparsi su Palazzo Moroni e sulla portone del Comando Forze Operative Nord in Prato della Valle. Imbrattata la finestra è la targa commemorativa raffigurante la mappa dell'impero coloniale italiano posto sull'edificio del comune di Padova, sopra la farmacia. La stessa vernice era presente anche davanti all'entrata della farmacia, nonché su due auto parcheggiate sotto le finestre del comune. Transitando in Prato della Valle davanti alla chiesa di Santa Giustina, anche il portone di accesso alla sede del Centro Comando Forze Operative Nord, ufficio documentale dell'esercito italiano, era stato imbrattato dal lancio di uova pieno di vernice rossa. Sul telone dell'impalcatura, attigo all'entrata inoltre, è stata notata la scritta Nato Terrorista, seguita dal simbolo della falce e martello con la stella. Sono già scattati gli accertamenti da parte della Digos e della Questura di Padova al fine di identificare gli autori di questi imbrattamenti.